Grazie. Allora, salve a tutti e cominciamo questa piccola chiacchierata che appunto parla del coraggio di decidere per gli altri e che nel titolo contiene questo curioso incipit, Guardie Rosse e Cigni Neri. E per far capire bene che cosa intendo, facciamo la conoscenza con il tenente colonnello Stanislav Eugrafovic Petrov. Quanti di voi lo conoscono? A quest'uomo dobbiamo il fatto di essere qui oggi a parlare. Perché? Perché esattamente 29 anni fa, il 29 settembre del 1983, il tenente colonnello Petrov vede sul radar della sua stazione un attacco missilistico statunitense, cinque missili Minutmen che si stanno dirigendo verso la capitale dell'Unione Sovietica. Il colonnello Petrov, che per l'atto di cui vi sto a parlare diventerà una specie di misconosciuto eroe, decide che si tratta di un errore. Decide che il radar sta sbagliando sulla base di una semplice osservazione. Se gli Stati Uniti volessero attaccarci, lo farebbero con l'obiettivo di distruggerci, non di farci un po' del male. Quindi, io non segnalo l'allarme. E vi faccio presente che segnalare l'allarme avrebbe voluto dire, probabilmente, nel giro di due minuti, scatenare la Terza Guerra Mondiale. Perché il colonnello Petrov era l'ultimo anello della catena dai militari ai politici. Sopra di lui, a decidere se si poteva girare quella chiavetta, c'era solo il compagno Konstantin Cernienko. Quindi, quest'uomo prende una decisione che richiede un certo coraggio, in una situazione completamente imprevista e completamente imprevedibile. Quello che gli economisti, a partire dall'economista e filosofo libanese Nassim Taleb, chiamano comunemente il cigno nero. Un evento che non si può prevedere e che ha sulle nostre vite un effetto terrificante. Parto da questo esempio che è un po' estremo per farvi capire che tipo di coraggio ci vuole quando si decide della vita degli altri. Perché tutti noi, ogni giorno, decidiamo della vita degli altri, a volte in modo automatico, quindi non ubriacandosi prima di imbarcarsi in macchina e quindi decidendo per la sopravvivenza della famigliola di Danesi che ci attraversa dalla strada, oppure semplicemente facendo il nostro lavoro. E mi occuperò proprio di questo aspetto, del tipo di coraggio e del tipo di competenza che servono per formare una squadra. Una squadra che può essere un gruppo di lavoro, un gruppo di ricerca, un qualsiasi team di persone che hanno l'obiettivo di fare un lavoro insieme e di fare un lavoro non di tipo rutinario, di tipo, diciamo così, di mantenimento, ma di ricerca. Io sono un chimico di formazione e di questo genere di problemi mi occupo da quando ho lasciato l'università, detta in modo educato, sono stato trombato, detta in modo obiettivo, al tempo in cui, appunto, avevo un dottorato, un assegno di ricerca presso il Dipartimento di Chimica. Ci sono due modi per formare una squadra. Uno è quello tipicamente italiano, si chiama concorso. L'altro, dal mio punto di vista, è quello giusto. Si chiama scelta. Uno dei due richiede coraggio. Beh, anche l'altro richiede coraggio, dipende da dove lo fai e da chi sono le persone che partecipano. Ma, fondamentalmente, quando vogliamo formare un gruppo di persone e dobbiamo quindi scegliere una persona, dobbiamo tenere conto di quelle che sono le loro competenze, dobbiamo tenere conto di quanto sono bravi, dobbiamo tenere conto, nel caso della ricerca, di quanto diventeranno bravi in futuro, che è una cosa un po' diversa da quanto sono stati bravi nel passato. In parole povere, dobbiamo fare una scelta. Ultimamente, nell'attuare questo tipo di scelte, sono stati usati massivamente i cosiddetti indicatori. E il principe di questi indicatori, comunemente, è il cosiddetto H-index. L'H-index, o indice di Hirsch, è un indice che dà un'idea di quanto è considerato, di quanta attenzione hanno ricevuto le pubblicazioni di un dato ricercatore nel corso della sua esistenza. è semplicemente H il numero di lavori che sono stati citati almeno H-volte. Per cui se una persona, per fare un esempio semplice, ha dieci lavori, uno è stato citato dieci volte, uno nove, uno otto, uno sette, uno sei, uno cinque, li so tutti fino a uno, ma mi fermo prima, l'H-index di questa persona sarà cinque. Esistono almeno cinque lavori che sono stati citati almeno cinque volte. E molto spesso si fa ricorso a questi indicatori. Perché? Perché un concorso pubblico universitario per scegliere una persona ha una durata di tempo limitato e andare a leggere tutti i lavori di tutti i candidati, andarli a spulciarli, andare a vedere in modo obiettivo quelle che sono le loro capacità, sarebbe un compito veramente improbo. Il problema è, questi indicatori sono veramente efficaci? Andiamo a vedere quelle che sono le scienze fisiche. Io qui ho riportato, in ordine decrescente con un errore, invertendo Stanley Ponce e Andre Geim, alcuni H-index di scienziati famosi, talvolta anche il loro malgrado. Faccio notare una cosa. In questa tabella ci sono tre premi Nobel. Ci sono anche due persone diventate tristemente famose per aver annunciato erroneamente di aver scoperto la fusione fredda. Due elettrochimici che nel 1992, se non sbaglio, annunciarono al mondo la possibilità di produrre energia atomica a partire dall'elettrolisi dell'acqua pesante. Non vi stupirà forse sapere che questi due sono Martin Fleischman e Stanley Ponce. Dan Sketchman, che si trova all'ultimo posto di questa mia personalissima classifica, ha un H-index di 22. Credo che un professore associato medio, ora in Italia, abbia un H-index che si aggira fra il 15 e il 30, più o meno. Peccato che Dan Sketchman abbia vinto il premio Nobel l'anno scorso per la chimica, per aver scoperto l'esistenza dei quasi cristalli, cioè di strutture solide che presentano ordine traslazionale a breve termine, ma non a lungo termine. Se andiamo nelle scienze biologiche, il problema si complica ulteriormente, perché uno potrebbe, guardando questa piccola classifica, in un concorso pubblico, essere tentato di assumere John Sulston, invece di, scusatemi, di assumere Jacques Benveniste o Leonard Leibovici, invece di John Sulston. Beh, John Sulston è un premio Nobel per la medicina, Leonard Leibovici è un ricercatore in medicina che è diventato famoso per un lavoro nel quale ha proposto un'evidenza statistica dell'effetto della preghiera su pazienti che erano già stati dimessi dall'ospedale. Questo uomo ha pubblicato uno studio scientifico serio, nelle intenzioni, sul fatto che se io pregavo per mia zia Casimira, che era uscita dall'ospedale cinque anni prima, questo poteva favorirne la guarigione. British Medical Journal. Un po' come Jacques Benveniste, che ha tentato di dimostrare che l'acqua ha memoria, questo avveniva negli anni 90, e per questo è stato vincitore di un premio IG Nobel, è l'unico al mondo che ha vinto due premi IG Nobel, il primo per aver dimostrato che l'acqua ha memoria e il secondo per aver dimostrato che questa memoria si può anche trasmettere attraverso un segnale telefonico. La storia di Benveniste, per chi non la conosce, è bellissima. Per smascherare questo cialtrone è stato necessario un team di scienziati mandati dal giornale Nature, e di questo team faceva parte anche Randy, James Randy, un fisico che però di lavoro fa l'illusionista, e che fu la persona che scoprì che, proprio grazie a un'errata applicazione del sistema di campionamento in doppio cieco, che venivano fuori dei risultati assolutamente incredibili. Quest'uomo prese i risultati degli esperimenti in una busta, l'ordine degli esperimenti con quello che contenevano con tutte le concentrazioni delle sostanze attive in un altro, li mischiò, li incollò in una busta che mise al soffitto, e segnò con il gesso il punto dove aveva appoggiato la scala, in modo tale che in caso di manomissione qualcuno se ne potesse accorgere. Quindi per smascherare questa truffa scientifica fu necessario un lavoro di squadra veramente notevole. Ciò nonostante, a guardare questa lista, nella quale figura anche Quan Ipsion Cha, Quan Ion Cha se non sbaglio, un altro che ha dimostrato come la preghiera di altri abbia un effetto tangibile sulla possibilità di successo nella riproduzione medicalmente assistita, quindi un altro genio non capito dei nostri tempi, guardando questa classifica e guardando solo questa, uno potrebbe incorrere in dei grossi abbagli. D'altra parte, per formare un'organizzazione, molto spesso il modo migliore di agire non è esattamente intuitivo. Io mi scuso qui per il fatto che questa slide si legge male, ma questa slide riporta un lavoro che è stato, che ha fatto discutere abbastanza un paio di anni fa, perché è un lavoro di alcuni matematici siciliani, Pluchino, Rapisarda e Garofalo, i quali hanno dimostrato, da un punto di vista matematico molto rigoroso, attraverso simulazioni, il cosiddetto principio di Peter, ovvero il principio secondo il quale ognuno di noi nel corso della vita lavora come un mulo fino ad arrivare al grado di massima incompetenza, fino ad arrivare al punto in cui non può più migliorare, e si deve sforzare come una bestia per mantenere la linea di galleggiamento. Che cosa hanno fatto questi tre allegroni? Hanno immaginato un'organizzazione gerarchicamente organizzata in modo piramidale, un capo e poi tanti sottocapi, segretari, sottosegretari, bassa manovalanza, magazzinieri. E hanno immaginato che la competenza di queste persone nell'essere trasferiti da un livello a un altro in un caso si mantenesse, diciamo così, invariata, cioè che una persona molto brava a fare il magazzinere sarebbe stato un ottimo manovale, quindi un ottimo sottosegretario, e così via. Nell'altro caso hanno ipotizzato che questa competenza, diciamo così, variasse in modo un po' casuale intorno a un valore medio, e dopodiché hanno, quindi che cambiando grado, le persone intelligenti restassero intelligenti, ma, diciamo così, la loro competenza nel grado superiore dipendesse in modo casuale da un parametro, quindi persone molto intelligenti a fare una cosa sarebbero state un po' meno brave o un pochino più brave nello svolgere il compito successivo, e poi ha immaginato ogni tanto di mandare un qualche agente in pensione e di farlo sostituire, secondo alcune regole, con una persona presa nello strato immediatamente inferiore. E ci potete credere o no, se non ci credete potete andare a prendere l'articolo che si trova facilmente in rete, l'efficienza dell'organizzazione veniva massimizzata promuovendo la gente a caso. Oppure promuovendo a caso o il migliore o il peggiore, le volte pari o le volte dispari. Promuovendo il migliore ogni volta si creava prima o poi una stasi, un collo di bottiglia, uno strato di questa organizzazione piramidale gerarchica che bloccava lo scambio di messaggi di comunicazione e di efficienza fra gli strati sopra e sotto. Chiunque di noi volesse applicare questa cosa nella vita reale si troverebbe in difficoltà, ci vorrebbe coraggio per spiegare al proprio amministratore delegato che bisogna promuovere la gente a caso per mantenere dinamica l'azienda. Però è un dato di fatto che molto spesso i modi, i criteri che servono per far funzionare un'azienda, un gruppo non sono intuitivi. Non sono, possono non essere intuitivi. E promuovere il migliore spesso può significare levarlo da una posizione che sa occupare, nella quale da un lavoro che sa svolgerlo, e metterlo in una posizione gerarchica superiore a fare un lavoro che non sa svolgere. Io sono uno scrittore mi dicono di una certa bravura e se mi mettessero a fare l'editore vi assicuro che ci sarebbe da dare la testa nel muro per me e per come sono fatto io un certo numero di volte. Quindi, detto questo, ricordato quali sono i criteri che animano la scelta la scelta delle persone per costituire un buon gruppo e per arrivare all'eccellenza, perché oggi la scienza è competizione e non si sopravvive se non si arriva all'eccellenza, voglio ricordare il fatto che il fuoco di tutti questi discorsi è sempre una persona. Se vogliamo ottenere il massimo risultato, se vogliamo, come il simpatico Zhang Jai Ke, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Londra 2012 nel tennis tavolo, ottenere il massimo risultato e quindi andare a baciare il nostro agognato podio, quello che dobbiamo fare è tenere conto delle abilità della persona, costruire persone che siano abili, allenarle, impegnarci perché diventino sempre più brave. Costruirsi un podio da soli con legno, vernice blu e altri materiali e poi montarci sopra nottetempo non garantisce lo stesso risultato. Purtroppo questo è un vizio che nella scienza, nella politica e in altri settori della vita sociale moderna talvolta si vede. e concludo questa piccola chiacchierata sul coraggio con un ultimo aspetto del coraggio. Credo che la maggior parte di voi si ricordi di quest'uomo. Sarebbe bellissimo dire che quest'uomo ha avuto il riconoscimento che si meritava e che ora si gode una pensione da generale di corpo d'armata nella sua dacia sul Mar Nero. Non è esattamente così. Stanislav Petrov dopo aver preso una decisione che ha salvato qualche miliardo di vite umane presumibilmente si è visto stoppare la carriera. A causa di alcuni formalmente a causa di alcuni difetti di trasmissione dei messaggi nei giorni immediatamente successivi all'allarme missili statunitensi la carriera di Petrov si stoppa. Viene prima mandato in una stazione radar di provincia e poi successivamente degradato. Ecco, sulla campanella chiudo. Bisogna anche avere il coraggio di sapere che potremmo prendere la decisione giusta per miliardi di persone e che nessuno ci ringrazierà per questo anzi. Grazie.